Poltrone sofà. Ancora i doppi saldi. E va bene, le diamo l'ultima chance per risparmiare. Chance è francese. E come si traduce? Costi prezzi è meglio sbrigarsi. Sofà celosi a soli 189 euro. Canarina con letto a 489 euro. Loasa in vera pelle a 499 euro. Ci credo che l'ho convinta. Con il mio charme. Poltrone sofà. Artigiani della qualità. Affrettati. Il triplo risparmio termina domenica. Alla prossima.